Radio Radicale, siamo con il senatore Scarpinato del Movimento 5 Stelle per parlare con lui della Commissione Antimafia. Allora, noi abbiamo visto che in queste settimane c'è stato qualche problema per varie commissioni. Il COPA si è scaduto dopo 20 giorni dalla nascita del Governo, non è stato ancora avviato leader della legge istitutiva della Commissione Antimafia. È un ritardo grave? Come lo giudica, visto che lei ieri ha fatto un sollecito? Il primo giorno del mio insediamento ho depositato questo progetto di legge per la costituzione della nuova Commissione Parlamentare Antimafia. Stiamo sollecitando la Commissione Affari Istituzionale e la sua istituzione in modo da non creare un buco istituzionale perché la mancanza di una Commissione Antimafia, soprattutto in una fase nella quale ci si appresta a varare una legge sull'ergastolo stativo, una legge che creerà gravi scompensi perché disincentiverà le collaborazioni in giustizia e potrà incentivare le mancate collaborazioni in giustizia, occorre aprire un faro di riflessione e avere un luogo istituzionale dove si possa agire in fase di emergenza per aprire un dibattito nazionale. Perché, diciamocelo chiaramente, questa legge sulla riforma del gas sostitutivo segna uno spartiano tra un prima e un dopo. Il Paese si renderà conto di che cosa accadrà già nei prossimi mesi, quando vedrà uscire dal carcere boss straggisti. A quel punto ci deve essere già un luogo, che deve essere la Commissione Antimafia, dove si potrà dibattere e dove si potrà eventualmente proporre degli interventi correttivi e urgenti e poi riportare al centro dell'agenda politica un tema mafia che sembra essere scomparso. Ogni giorno, non dico ogni giorno, ma frequentemente vengono fatte operazioni di mafia importanti per cui la stampa non dà più notizie, è come se la mafia in questo Paese fosse diventata una consuetudine normalizzata e come se il Paese si fosse rassegnato. Ecco, bisogna aprire un luogo di confronto e quindi noi sollecitiamo l'istituzione urgente della ricostituzione della Commissione Prodometratica. Nel suo disegno di legge c'è qualche innovazione rispetto ai compiti delle precedenti commissioni bicamerali antimafia? Sì, c'è, perché la mafia della Prima Repubblica, la mafia per intenderci che nell'immagine collettiva è reincarnata da personaggi come Reina, Violenta, delle estorsioni, sta cambiando come sta cambiando il Paese, il mondo. Abbiamo nuove forme di crimini organizzato che non sono più inquadrabili nelle fattispecie che abbiamo pensato prima Repubblica, 406 bis, che non sono inquadrabili neanche nell'associazione del delinquere semplice e per le quali sono state trovate nuove definizioni in ambito criminologico. Si parla di sistemi criminali, si parla di comitati crimine affaristici, la stampa li chiama P3 e P4. Occorre quindi fare un'analisi su queste nuove forme criminali di soggettività criminale più complesse dove si incontrano colletti bianchi e alte gerarchie mafiosi che non usano la violenza e quindi non rientrano nel 400 bis, che non si limitano a commettere 3-4 reati e non rientrano nel 416 associazioni semplice, ma che hanno lo scopo di creare dei centri occulti di potere per controllare interi comparti della produzione nei grandi affari. Lì abbiamo un buco normativo, per questo io ho chiesto di inserire, chiamiamole nuove mafie, ma io direi di inserire le nuove forme del crimine organizzato che caratterizzano il terzo millennio. E ho anche proposto, a proposito per quanto riguarda la stampa, non soltanto di porre a mente i casi in cui ci sono giornalisti che vengono intimiditi dai nafiosi, ma anche di aprire un faro di riflessione sull'eventuale infiltrazione di centri di potere occulto all'interno dei media e quindi della possibilità di un condizionamento dell'informazione da parte dei poteri occulti. Questo avviene secondo lei già? Questo è avvenuto nella storia di questo paese, ci siamo dimenticati che la P2 si stava impadronando il Corriere la sera. Aveva fondato anche un quotidiano, no? Ci sono dei quotidiani e credo che non dobbiamo smarrire in memoria che abbiamo avuto dei giornalisti che sono stati anche sanzionati dal nord dei giornalisti perché erano dei servizi segreti e tuttavia carpivano notizie e poi pubblicavano articoli dei giornali, certamente, con etica giornalistica. Un'ultima cosa, il PNRR e il reddito di cittadinanza rappresentano un malloppo sul quale la mafia sta mettendo le mani. Allora qualcuno dice che ci sono state delle intercettazioni dei mafiosi che dicevano c'è il reddito di cittadinanza, non riusciamo a ruolare più nessuno, mentre ci sono altre testimonianze che dicono che intere cosche hanno messo le mani sul reddito di cittadinanza, ci sono state delle notizie, ma anche sul PNRR e su quello che rappresenta questa... Ma se io mi meraviglio di questa domanda, non se ne abbia... No, 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 ci mancherebbe, ci mancherebbe. Perché tutti si pongono questa domanda, io mi chiedo... No, io... No, io... Sì, 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 sì. Ma sai qual è il vero pericolo? È la corruzione, non la mafia. È la corruzione che rappresenta il vero pericolo PNRR, cioè i colletti bianchi che nelle stanze del potere e muovendosi nelle commissioni o nei centri di amministrazione sono in grado di drenare quote significative al PNRR. Noi dobbiamo cominciare a pensare che la corruzione è una forma di criminalità organizzata. Se la mafia mette le mani sul PNRR ci arriva attraverso i reati della corruzione, non ci arriva con la pistola punta dalla tenka. E a questo riguardo è gravissimo che questo governo stia disarmando la magistratura prevedendo la sostanziale abolizione o la riforma reate con l'abuso d'ufficio, il traffico di influenza, togliendo dalla legge sull'argasso lo stativo reate con letti bianchi, diminuendo le spese per le intercettazioni. Dobbiamo cominciare a pensare che il pericolo per i fondi pubblici prima ancora che per i mafiosi è costituito dai colletti bianchi e la mafia che pensa ha capito che deve seguire le stesse strade dei colletti bianchi perché i colletti bianchi hanno azzerato il rischio penale e si autotutelano e i mafiosi che ragionano hanno capito che la strada è quella. Non c'è bisogno di puntare la pistola alla tempia di qualcuno. Questo lo fai se c'è qualcuno che ti dice di no. Ma se tutti ti dicono sì e basta pagare, ma perché lo devi fare? Chiarissimo. Senta, io spero che la commissione antimafia venga costituita quanto prima. Lei non ha ottenuto risposta. Ma noi stiamo sollecitando. Speriamo di avere una risposta perché penso che sia un tema che sia trasversale alle divisioni partitiche che interessa il Paese. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio il senatore Scarpinato del Movimento 5 Stelle. Ringrazio il Movimento 5 Stelle